in più rispetto al bollettino precedente. Nei reparti di degenza ordinaria covid invece sono ricoverate 283 persone, due in più rispetto al bollettino precedente. Al covid d'ospita dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati sono attualmente ricoverate 14 persone nel reparto di pneumologia, una al pronto soccorso ed una in rianimazione. Sempre alta l'attenzione anche sul fronte scuole. Anno c'era superiore, finiscono in dad, le classi terze della scuola settembrine a causa di tre casi positivi riscontrati tra il personale docente. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano tranquillizza ed invita la precauzione. Sulle scuole dove noi vigiliamo ma debbo dire stanno facendo un ottimo lavoro così come per il suo protocollo anche i dirigenti scolastici. Al momento abbiamo tre casi di positività di docenti e si sta gestendo dove è possibile in dad la didattica. Siamo fiduciosi che al più presto potremo tornare anche alla piena normalità. I casi in città sono 30, quindi un numero irrisorio rispetto ai numeri che eravamo abituati a vedere. L'invito che però rivolgiamo alla comunità locale è sempre quella del distanziamento, di indossare la mascarina, di rispettare le norme anti-covid che ci consentono di tutelare la salute nostra e quell'altrui. L'invito che noi rivolgiamo sempre è anche a vaccinarsi per chi non l'ha fatto ancora. Anche da questo punto di vista abbiamo avuto una cittadinanza molto sensibile, molto attenta, che ha ritenuto di farlo. Quindi non registriamo quelle percentuali di Novax che eventualmente in altre parti dell'Italia abbiamo avuto modo anche attraverso i mezzi di informazione di vedere. Grazie. Grazie.